Musica Mister partiamo subito dall'elenco dei disponibili e degli indisponibili, non ci sono Pucino e Ferigra, tre ragazzi con la febbre? Sì, la Verona, Ciaia e Beretta hanno avuto un virus intestinale con febbre quindi non sono disponibili. Abbiamo giocato appena giovedì pomeriggio, come stanno gli altri ragazzi e soprattutto il recupero dei ragazzi che sono sui 30 e più anni? È normale che in questo momento siamo concentrati più su recuperare i giocatori perché non sono passati ancora 48 ore e in questo momento anche oggi molti ragazzi lamentavano qualche fastidio. È normale che oggi abbiamo preparato la partita e domani insomma sarò un po' più concreto su quello che riguarda la formazione. In linea di massima la sua intenzione è quella di confermare gli stessi uomini che bene hanno fatto col Pisa e lo stesso schieramento tattico? Sì, in linea di massima vorrei dare continuità. È evidente che bisogna far fronte a delle difficoltà fisiche. Abbiamo qualche giocatore insomma anche su di età e quindi chiaramente fare tre partite ravvicinate come è già successo è un po' un problema. Stanno tutti abbastanza bene, sono fiduciosi insomma di recuperare un po' tutti. Andiamo a Benevento, un campo difficilissimo. Loro in casa praticamente hanno vinto sempre tranne un pareggio. Sono reduci da sei vittorie consecutive però non è una squadra imbattibile, non esistono nel calcio squadre imbattibili. Come la state preparando e come crede di sorprendere la squadra di Inzaghi? No, beh, è una partita difficile contro una squadra che sta ammazzando il campionato. È evidente, insomma non lo devo nemmeno rimarcare. Nel calcio però si parte sempre 11 contro 11 e le partite vanno giocate. Io credo che se c'è una squadra in questo campionato che può mettere in difficoltà per me è l'Ascoli e quindi io in questo ci credo. E' chiaro che bisogna andare a fare una partita di grande fame, di grande umiltà, di grande determinazione, gettare il cuore oltre l'ostacolo, cercare di fare una partita straordinaria perché chiaramente per battere questo tipo di Benevento serve un'impresa, questo è evidente. E' già soddisfatto dei 27 punti raccolti in questo girone andata e far punti a Benevento sarebbe la ciliegina sulla torta comunque di un'Ascoli che è quinto in classifica e mai negli ultimi anni era stato così in alto al giro di Boa? Beh pienamente soddisfatto no, è normale che si poteva fare sicuramente qualcosa in più, ovviamente fuori casa, il nostro cammino in casa è stato un cammino importante, quello fuori casa ormai l'abbiamo detto tante volte è stato un cammino deficitario, i punti insomma sono dei punti buoni, la classifica è una buona classifica è chiaro che noi vogliamo migliorare per puntare sempre più in alto e soprattutto dobbiamo fare tesoro di questa prima parte di campionato, di questo girone di andata per non commettere gli stessi errori nel girone di ritorno.